Le religioni monoteiste e il percorso di pace nel mondo è il titolo dell'incontro organizzato dall'Euroistituto Gustav Russi con il patrocinio del Consiglio regionale che si è tenuto nella Sala Viglione a Palazzo Lascaris. Tra i relatori, Domenico Devoti, psicologo clinico e docente a merito di psicologia delle religioni all'Università di Torino, e Alessandro Meluzzi, psichiatra e psicologo, coordinatore della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala. Ha chiuso i lavori la vicepresidenza del Consiglio regionale, Daniela Ruffino. Grazie.